Ciao, sono Alessia e lavoro presso la Giasco come Area Manager. Per molti lavoratori che operano nel settore alimentare, i principali pericoli sono la presenza di liquidi aggressivi, che possono danneggiare la calzatura e infiltrarsi all'interno di essa. Per questi utilizzi consigliamo le nostre calzature dotate della tecnologia Micro Wash. Questa è una tecnologia italiana prevettata basata sull'utilizzo di materiali poliuretani taspiranti, studiati per garantire la massima resistenza agli acidi come grassi e sangue e addirittura l'acido oleico. Un ulteriore vantaggio di questo materiale è il suo peso. È infatti il 40% più leggero rispetto alla pelle, per garantire un risparmio di energia e il massimo comfort per l'intera giornata. È infine lavabile a 40 gradi con acqua e sapone. Grazie. 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 Grazie.